Buonasera signore e signori sono Ash88, benvenuti quest'oggi nella quattordicesima parte della nostra Nazelook Challenge Ci ritroviamo un po' distrutti, devo dire, e un po' ok, volevo aprire soltanto il menu Un po' anche, per così dire, acciaccati, dato che l'ultima volta abbiamo sconfitto Marzia Ma ci abbiamo rimesso praticamente quasi tutto il team, a parte soltanto Vaniglia Quindi, quello che faremo oggi è riuscire a tentare, ecco, un approccio diverso e riuscire a catturare qualche Pokémon in più Proprio appunto, perché siamo rimasti in 3 briganti e 3 sommari, c'era una volta la canzone Quindi, vediamo questo allenatore che ha un golden al 30 Bene, paralizzato, perfetto Spago sarà a livello 22 Ehm, era un po' che non registravo qualche parte di platino Allora, questo, tutto Nooo, dovevo aspettare E' comunque sia qualche... era un po' che non registravo qualche parte di platino Proprio per... mi sono andato appunto a... alla guida di rosso E in più ho fatto quei video... quel video, perché non ho fatto uno Ehm... quel video su... Call of Duty Ghost, della classe Che devo dire che è stato abbastanza seguito E... e quindi se volete che appunto ce ne siano altri per me Non ci sono assolutamente problemi Ehm... e quindi niente, adesso sono qua, sono tornato oggi con questa nuova parte E andiamo ad affrontare tutti gli allenatori O meglio, qualcuno ne volevo lasciare... ehm... per così dire a parte Non le volevo sfidare Proprio per riuscire a catturare qualche nuovo Pokémon E poi andarlo... andargli di nuovo a risfidare E salire di livello con... con quelli Allora, passiamo di qua Infatti vedete che lascio più strumenti e roba del genere Io qui volevo curare un secondo Vanilla Perfetto Che Vanilla, diciamo, è il... il pilastro di questa squadra È rimasto quello... per cui, diciamo, avevamo creato la squadra Quindi... perfetto Cioè, che avevamo creato la squadra L'ultimo della vecchia squadra Ok E... come avete visto dal post di ieri sera Ehm... mentre giocavo a tutti contro tutti su Call of Duty Ghost Non... non sapevo proprio... cosa... cosa fare, no? E allora ho... ho trovato un... una specie di toppa Adesso non ci sono più gli emblemi ma ci sono le toppe appunto Su Call of Duty Ghost Eh... di un pagliaccio Un po' tipo Hit E ho detto, buah, quasi quasi... come si dice Lo... la voglio sbloccare Sono andato a vedere la... la sfida E appunto la sfida per ricevere quel... quel badge Quella... quella toppa Era affrontare cinque partite su tutti contro tutti E arrivare o primo, o secondo, o terzo Eh... nella prima sono uscito perché appunto C'erano dei flippati assurdi e... Ovviamente mi... Mette in una partita in cui il primo stava a 20 Il secondo 18 e il terzo 17 mi pare Quindi era un po' anche inutile E allora ho detto, vabbè, usciamo E sono entrato nella partita con Just Ron Arriviamo intanto nell'arrivo a valore Quindi possiamo catturare il nostro Pokémon Che ci apparirà Ora a parte sta revia E... ho visto Just Ron e ho detto No, non può essere quel Just Ron Anche se mi aveva sciottato con i... Oh, un girafaric? Bene, un catturine nemo, un girafaric E... non penso che sia quello proprio perché... E... cioè, il Just Ron, dai È impossibile che... che sia lui Così e così Allora, cosa è successo? Ehm... ho stoppato un secondino di giocare Ho preso... e sono andato a vedere il suo... i suoi amici E c'era Ghost Dread Online C'era Giovanni Crick C'erano praticamente tutti Ehm... sopra il nome a girafaric lo chiamiamo Ghost Vai, ma sì, vai E... e quindi Ho detto Oh mio Dio Allora... Erano quasi tutti col cecchino Io dovevo finire Mi mancava una partita Dovevo finire appunto Quella partita per avere il badge Allora ho detto Vabbè, per una volta Però, insomma Devo dire che È veramente molto forte A giocare con il cecchino Il nostro amico Just Ron È veramente, veramente bravo E... Quindi faccio i complimenti Insomma, è un bravo... un bravo sniper Però comunque sia Mi sono divertito anche se Sono arrivato secondo Perché all'ultimo ero riuscito a recuperarlo Ehm... ma... Ha fatto... Io non so come Una kill Abbastanza, insomma Di bravura Una specie di no scoop Proprio senza vedere nemmeno l'omino E... e quindi ho detto Vabbè, è bravo Allora lasciamo perdere Allora Qui possiamo fare delle lotte Contro questi allenatori Adesso che abbiamo anche Il nostro ghost Possiamo anche farle Tanto almeno Alleniamo un po' la squadra Ehm... Saranno lotte doppie Perfetto Un Rayorn Questo sarà difficile Da mandar giù Scintilla E utilizziamo gli... Sarebbe meglio sostituire Spago con ghost Almeno è psico qualcosa in più Forse fa Allora Vediamo un po' Cosa è successo? Ma io avevo usato Scintilla su Finneon E usa psico raggio Sul Rayorn E anche veloce ghost Non ho capito Perché non ha effetto? Vabbè Allora a questo punto Utisiamo così E così Ok Spago sarà a livello 24 Che vuole imparare turbo fuoco Non glielo faccio prendere Perché tanto È inutile No Non voglio No Blocca turbo fuoco Ok Perfetto Anche un brutto colpo Ok Benissimo Ormai volevo far arrivare A livello 30 Vaniglia E poi insomma Allenare gli altri Ci manca un pokemon Di tipo acqua E questo Non sarà Non è una buona cosa Volevo prendere un ammo Magari Pescare un Magikarp Fallevo avere insomma In Gerdas Non sarebbe Un Kriktur E uno Psyduck Ok Allora Questi Così E così Vediamo un po' Mmm Buono E Grandissimo Vaniglia Sanguisuga Da parte di Kriktur Kriktur Sono un po' Anche raffreddato Non è proprio Un raffreddore È tipo La mattina Quando si sveglia Cioè Il naso un po' Tappato Non è proprio Un raffreddore Gigantesco Però insomma È un po' Noia Cambia L'aspetto Della Della mia voce Uh Un parugli Parugli Siamo messi Di cacca Allora Io sarei Per Allearci Tutti Contro Parugli Andiamo un po' Bene Perfetto Benissimo Oh Anche paralizzato Bene Via 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 Dobbiamo Attaccare Tutti Parugli Perché è Veramente Forte Come Pokemon E poi Chiatot La vecchia Nostra Conoscenza Spago Sare Nel 25 Usiamo Un ruota Fuoco Anche Polita Anche il nostro Spago È veramente Veloce Come Pokemon Non male Non male E poi ci rimangono Questi due E quelli di sotto Al tavolo E poi Siamo a posto Questo ha Tre Pokemon Quindi è una cosa Un po' Differente Però possiamo fare Anche abbastanza Veloci Perché con Ruota Fuoco Dovremmo andare K.O. Magnemite E con Morso Il nostro Chiria Anche questo Abbiamo avuto Un Mr. Mime Ci allieiamo Tutti contro Mr. Mime È bello Allearsi Contro i Pokemon C'è Due contro Uno Un brutto Colpo Di Spago Spago Sare a Livello 26 Attenzione Non mi Ricordo Ponita A che Livello Si evolve Vediamo Un po' Intanto Che Che Cosa Io lo Cerco Quasi Quasi Con Il Telefono Allora Un Cadabra Ed Naipom Uh Attacchi speciali Attenzione Si Bugga Qui Vediamo Cosa è Successo Bene Cadabra È andato K.O. Io intanto Stavo Cercando Eccolo Qua Direttamente Da Wikipedia È una Fonte Quindi Penso Che Sia Attendibile Perfetto Perfetto Ponita In tedesco Ponita In francese Ponita Ragazzi Che ve lo dico A fare Allora In tedesco Ponita È in È in È in Coso Ponita Evoluzioni Si evolve Rapida C'è a livello 40 Perfetto Abbiamo ancora Tantissimi Battagli Da poter fare Chi è che mi cura La scala Già Giusto Questo qua sotto All'hotel Allora Questo è percorso 213 C'era qualche Cosa Ok Perfetto Io presumo Di andare Qui sulla destra E prendere Questo strumento Qui Che era un coccio giallo Poi siamo In un nuovo Percorso Però qua è Affollato di bambini Che vogliono lottare Ovviamente anche qui Mi servirebbero Cioè Un pokemon elettrico Scelò che è vaniglia E più che altro Altri pokemon Per rifucillare La squadra Anche perché Sennò Siamo veramente Messi molto male Vaniglia Sala a livello 30 E spaga a livello 27 Oh Attenzione Vaniglia Si sta evolvendo Mamma mia E vai Luxray Perfetto Bessi a cane La ciccia Baffetta Benissimo Benissimo Attacco 90 Ragazzi Un attacco gigantesco Anche Ponida Non se la cava male Bene 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 Allora A questo punto Possiamo mettere Vaniglia dietro Io metterei davanti Spago Anzi Metterei davanti Ghost Perché Spago Dato che qui sono Mezzi con l'acqua Vorrei che Mi cosano Mi fai vedere se ho un amo Perché se ho un amo Lo provo a vedere di Amo vecchio Ma non lo so Aspetta Vediamo un po' Mi sembra che cosa L'avevo già Blu Già Perché non abboccano Mi sembra che l'avevo già Preso forse Magica Ma non credo No perché se no Ce l'avrei Avvolto troppo velocemente Ah già giusto Questo Era Si deve sentire Mi sembra Io non mi ricordo Mica come si pesca Non abboccano Perché non abboccano Devono abboccare Che vuol dire Avvolto troppo velocemente Di solito mi appare Magica Però ora qui Non mi appaia niente Appaie Avvolto troppo velocemente Vediamo un po' Un pokemon Attenzione Un Magica A livello 7 Mamma mia Potremmo avere Il nostro Il nostro Ora ve lo dico Il nostro Geridos Potremmo avere Perfetto Magica 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 è stato catturato Ok Magica Il soprannome Lo daremo Speranza Perché è la speranza Di avere un Geridos Il più presto Possibile Prendi Perfetto Allora io a questo punto Direi che Torno indietro Al vecchio Appunto Conditi Esperienza Ok Al vecchio percorso Andrò Da sfidare Tutti I allenatori Che avete visto Ho saltato In precedenza Dato che ora Insomma Il team Si è quasi Rimesso Me ne manca uno Ma insomma È già meglio Che me ne manchi Che me ne manchi Di più E Quindi nulla Io allenerò Magica Chiamato anche Hope E poi Ecco Nella prossima Nella prossima Nella prossima parte Ci ritroveremo Sempre qui Proseguiremo Oh pensate Sarebbe l'8 E mi volevo Lasciare un posto Libero Anche perché Tra quanto Nella prossima puntata Andremo a visitare La palude E quindi Magari ci sta Anche di Di beccare Un croga Anche che non sarebbe Affatto male Vedere l'8 Non Non mi dispiacerebbe Anche se Comunque sia No a parte che L'acqua ce l'ho Psico ne avrei Addirittura due Cioè sarebbe Un acciaio psico E uno psico psico Quindi non sarebbe male Allora Vediamo un po' Volevo affrontare Gli ultimi pokemon Proprio Così Random Questo mi fa paura Mettiamo un luxerei Fammi vedere un po' Gigantissimo Vaffanculo C'ha C'ha i capelli di Goku Comunque sia Questa parte Termina qua La quattordicesima Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi E Per la prossima Per i prossimi video Ditemi un po' Se volete Ho una classe Dato che ho giocato molto Per tutti contro tutti Se vi può far piacere Ve la metto Vi faccio anche un video Di quella Tanto oggi In giornata Sono libero Se vi interessa Insomma Vi carico il video Di una classe Molto buona E utile Per tutti Contro tutti Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Un ciao Ciao ragazzi